Musica Questa sera alle 20.30 in campo in Lecce contro il Vicenza per il posticipo della diciottesima giornata del campionato di Serie B riparte così l'assalto alla vetta Tris della Virtus Francavilla contro la Juve Stabia e 30 punti in classifica dopo il girone d'andata una domenica da incorniciare per i biancazzurri di Taurino Vince anche il Taranto 2-0 contro il Picerno, Falcone e Saraniti autori di due gol preziosi per la classifica e il morale della squadra di La Terza Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione sportiva di Antenna Sud 85 Cominciamo da Lecce che questa sera scenderà in campo contro il Vicenza l'ultimo atto della diciottesima giornata di campionato In casa giallorossa c'è tensione ma non legata alla partita contro il Vicenza ma soprattutto a quello che potrebbe accadere causa Covid I convocati sono stati diramati appena alle 14 per la partita contro il Vicenza Una sfida che Lecce deve vincere per poter alimentare quel sogno chiamato Serie A e poter passare un Natale al secondo posto in classifica Dalla lista dei convocati mancano Blen e Listowski il polacco protagonista nella gara di Coppa Italia contro lo Spezia C'è da capire quali sono le reali condizioni di Di Mariano Si ha la possibilità di poter partire all'inizio altrimenti tridente obbligatorio quasi per Marco Baroni con Olivieri Affiancato da Strefezza e Pablo Rodriguez che potrebbe perciò ritrovare una maglia da titolare dopo la buona prova in Coppa Italia Per quanto riguarda invece l'emergenza Covid potrebbero essere due i positivi in casa giallorossa Una condizione che non metterebbe perciò a rischio la disputa dell'incontro C'è entrata la missione 30 punti per la Virtus Francavilla al termine del girone d'andata grazie a un Super 3-0 contro la Juve Stabia Missione compiuta per la Virtus Francavilla che travolge la Juve Stabia con un netto e perentorio 3-0 centrando l'obiettivo dei 30 punti al termine del girone d'andata Le reti portano la firma di Mastropietro, Loppietta e Perez All'ottavo minuto cambia subito il parziale, bella manovra offensiva di Perez che fugge sulla destra e pennella un gran pallone in aria per Mastropietro che di testa allunga la traiettoria verso il secondo palo e fa esplodere la gioia della nuova Red Arena Risponde due minuti dopo la Juve Stabia con Eusebi che arriva al limite dell'aria e calce in diagonale Nobile con un gran colpo di Daini neutralizza la conclusione Al sedicesimo altra occasione per gli ospiti, botta forte e tesa di Donati e altra grande risposta di Nobile che con la mano aperta devia la sfera Al ventunesimo il raddoppio della Virtus Franca Villa, Miceli per spazzare il pallone serve Perez in avanti Numero 10 Biancazzurro poi sfrutta l'indecisione di Saria, tu per tu non sbaglia per il gol che vale il 2-0 Al trentaquattresimo altro tentativo della Juve Stabia, ci prova Bentivenga da fuori, pallone che però sfiora all'improcio dei pali Al quarantunesimo poi Panico si infila tra Ida e Miceli e in girata Malta alto sopra la traversa Al settantesimo inserimento in aria di Toscano che nei pressi dell'aria piccola si gira e calcia debolmente sfiorando il clamoroso 3-0 Al settantatresimo cross venenoso di pieno dalla destra ma Perez in scivolata e forse spinto manca l'impatto col pallone Il terzo gol però poi arriva a 5 minuti dalla fine Ekuban porta palla, premia l'inserimento di pieno sulla destra e cross del terzino destro per Mastropietro che da 0 metri batte Saria e risulta ancora sotto la curva sud per il gol che vale quindi il 3-0 Al novantesimo c'è anche una grande occasione sui piedi di Ekuban che ci prova ma non segna Al triplice fischio e festa bianca azzurra, Taurino sosparsa Calabro ed Agostino e centronuta guardo storico per la Virtus Francavilla E adesso andiamo ad ascoltare le parole proprio di Taurino nel post gara Mister oggi un'altra vittoria importante, prima insieme al presidente l'abbiamo analizzata probabilmente la vittoria più bella dopo quella col Bari, analogo risultato però la cosa più importante 30 punti è già entrato nella storia ancora una volta della Virtus Sì, siamo contentissimi, i ragazzi ci eravamo posti tutti insieme l'obiettivo di girare almeno a 30 punti ci siamo riusciti, secondo me è un grosso traguardo è un grosso traguardo frutto di un lavoro, di tanti mesi di lavoro, di sacrificio che ci hanno portato comunque a fare un ottimo bottino quindi di questo siamo contenti, oggi abbiamo fatto una partita importante contro una squadra forte una squadra che qualitativamente secondo me ha giocatori in grado di fare la giocata importante e devo dire che al primo tempo abbiamo anche concesso qualche situazione in cui ci hanno messo in difficoltà soprattutto quando abbiamo lasciato qualche palla libera in cui ci attaccavano la linea con dei movimenti che hanno fatto molto bene in cui forse in un paio di situazioni non siamo stati molto attenti però sapevamo, l'avevo presentato ai ragazzi questo tipo di partita sapevamo che è una squadra che davanti comunque crea perché quando hai giocatori come Bentivenga, Panico, Stoppa sono giocatori che anche negli spazi stretti hanno la capacità di sterzata la capacità di uno contro uno di saltare l'uomo quindi devo dire che siamo stati bravi sono contentissimo perché ancora una volta io penso che sia soprattutto la vittoria del gruppo Taranto-Picerno 2-0 invece il risultato finale tre punti importantissimi per la formazione della terza 2-0 meritato per il Taranto lo Iacovone contro il Picerno e il Rosso Blu tornano al successo con un gol per tempo segna prima Saraniti autore di una prestazione da incorniciare portando in vantaggio gli ionici di testa poi raddoppia nella ripresa Falcone una marcatura significativa per un calciatore costretto ad un lungo stop per infortunio il tecnico del Taranto torna al 4-2-3-1 Mastro Monaco, Giovinco e Falcone tre quartisti dietro Saraniti infermeria affollata di difensori la storia si ripete ancora nell'intervallo esce Zullo acciaccato al suo posto Granata la cui gara dura soltanto 5 minuti allora la terza di difensori non ne ha più e si inventa Belloc difensore centrale la mossa si rivelerà azzeccata da segnalare negli ultimi 10 minuti gli esordi del nuovo arrivato Vincenzo Barone attaccante di Manuel Cannavaro centrocampista classe 2002 il Taranto parte con il piglio giusto dopo 10 minuti il primo brivido cross di De Maria dalla sinistra colpo di testa di Saraniti sul secondo palo Garzia spazza sulla riga fatale tre minuti più tardi al 14esimo il Picerno si fa vedere con De Cristofaro sventola da fuori aria ma la parata plastica di Chiorra evita la capitolazione il Taranto passa in vantaggio al 16esimo l'assist di Versienti il colpo di testa imperioso di Saraniti che torna al gol su azione dopo tre mesi nel secondo tempo dopo 10 minuti percussione di Civilleri in area di rigore avversaria il centrocampista mette dalla riga di fondo un pannone in mezzo per Falcone che deve soltanto spingerla in rete Taranto 2 Picerno 0 che sarà poi il risultato finale la formazione di Colucci si vede solo nella parte conclusiva del match al 30esimo c'è una traversione di Vivacqua ex dalla sinistra il pallone sbatte prima sul palo poi mischia davanti a Chiorra la difesa spazza 4 minuti di recupero il risultato non cambia il Taranto chiude il girone di andata con 27 punti e andiamo adesso ad ascoltare invece le parole nella post partita io non ero certo che questa squadra avesse motivazioni e che oggi scendeva in campo con le motivazioni a mille perché era una partita importante per noi i ragazzi sono stati eccezionali loro hanno vinto la partita la vittoria è loro perché ci hanno messo tutto oggi sia l'hanno vinta mentalmente l'hanno vinta tecnicamente l'hanno vinta tatticamente hanno fatto una gran partita non era facile la vittoria del gruppo e penso che alla fine lo hanno dimostrato in campo che questa maglia la tengono cucita addosso ci tengono tantissimo che sudano ogni giorno per poi essere pronti la domenica e cercare di vincere la partita e far giurire i nostri tifosi questa è la partita che mi aspettavo dei ragazzi una partita giusta una partita decisa purtroppo si sono ritrovati a dover perdere Zullo tra primo e secondo tempo per un problema muscolare subito dopo è entrato Granata e purtroppo al secondo scatto ha sentito anche lui un fastidio forse non si era riscaldato bene perché si è stato costretto a entrare subito e poi è uscito tutto quello che ha questa squadra cioè cuore, determinazione voglia di metterci a disposizione del gruppo senza mai pensare a quelle che possono essere le problematiche, le difficoltà Voltiamo pagina parliamo adesso di Serie D e parliamo di Nardò che ha pareggiato 0-0 contro il Sorrento un buon punto comunque per la squadra di De Cambia Il Nardò pareggia con il Sorrento uno 0-0 che allunga tre risultati utili consecutivi per i Granata così appare i punti con il Nola al ridosso della zona play-out finisce senza grandi emozioni la partita allo Stadio Italia in cronaca il primo squider sul calcio d'angolo il Sorrento ci prova con Gargiulo bravo Volzone quando è il Nardò a fine primo tempo a ritrovarci la prima frazione di gioco è poco vivace la partita cresce per ritmo nel corso della ripresa con i campani spinti dal proprio pubblico nella ripresa Mancarella spedisce a lato da buona posizione poi ci prova anche Caputo direttamente sul calcio di punizione Volzone attento la Monica dall'altra parte non ci arriva per questioni di centimetri Cassata risponde a Caputo ancora su punizione questa volta il tiro però finisce fuori la bella serpentina di Rizzo non porta frutti una migliore occasione però è proprio per Rizzo tira a porta praticamente sguarnita la Monica la toglie dallo specchio involontariamente e l'ultimo sussulto finisce 0-0 Parliamo adesso di basket perché torna alla vittoria l'Epicasa Brindisi contro Treviso e allora andiamo ad ascoltare le parole di coach Frank Vitucci Vittoria sofferta per l'Epicasa Brindisi che solo dopo un tempo supplementare batte la Nutribullet Treviso 99-95 Sciupona la formazione di coach Vitucci che si fa rimontare un vantaggio di 10 punti negli ultimi 50 secondi regalando l'overtime ad una Nutribullet sempre combattiva nel primo quarto inizia bene la squadra di casa Nick Perkins si fa trovare pronto sotto i tabelloni con Ciappel che lo supporta e scrive 12 punti dopo i primi 10 minuti Alla prima sirena è più segno basket 30-24 Nel secondo quarto i pugliesi allungano ancora scrivendo il più 10 con gli ospiti che hanno qualche canestro da dimsa unico preciso al tiro I time out di Max Menetti non portano grossi cambiamenti a riposo lungo sono 11 punti di vantaggio per i biancazzurri 51-40 Nella ripresa è più ordinata Treviso Brindisi perde troppi palloni e Jones prova a suonare la carica per la Nutribullet 63-57 al trentesimo Nell'ultimo quarto succede tutto è il contrario di tutto con coach Vitucci che va nei quintetti ma l'assenza di Perkins si sente troppo Capitan Zanelli dette ritmi segna punti preziosi ma i veneti sono sempre in partita nei secondi finali sulla pressione ordinata da coach Menetti Russell recupera un pallone per la schiacciata di Jones solo tre punti separano le squadre e dopo un errore dei padroni di casa Russell si fa tutto il campo in palleggio piazzando poi la tripla del supplementare Treviso ci crede ma Brindisi è brava a gestire i vantaggi con Capitan Zanelli che mette ordine Nick Perkins è una sicurezza ma chi mette il sigilo della vittoria è Josh Perkins glaciale dalla lunetta mercoledì gara di Champions League per i biancazzurri di scena in Israele contro l'Apoel Olon domenica ancora campionato altro match casalingo quasi determinante per conquistare un posto per la Final 8 di Coppa Italia incontrata a Masseriola arriva la Carpegna prosciutto pesaro di coach Luca Banchi e questa sera in prima serata su Antenna Sud zona 85 il nostro spazio dedicato all'epica Sabrindisi con la conduzione di Antonio Celeste siamo arrivati in chiusura grazie per essere stati in nostre compagnie e buon proseguimento sulle reti di Antenna Sud grazie a tutti